Buon pomeriggio a tutti, siamo di nuovo qui alla Grussos Village, siamo più o meno a una quarantina di metri dalla console del bureau, dall'animazione, e siamo qui quest'oggi in compagnia del nostro DJ, tecnico suono e luci, Dario DJ, ciao, tutto bene? Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti, ciao, tutto bene, sì. Sì, tutto bene. Ah, sì, sei sicuro? Sicurissimo. Allora, volevo fare una domanda molto tecnica riguardo il suo lavoro, che poi è quello del tecnico, da un a caso siamo di fronte alla console, ecco, bravissimo, in modo delle manopoline siamo tutti bravi, però un attimo, le faccio, le porgo la domanda. Le pongo. Io la pongo, io la porgo, come preferisce lei? Io la pongo, io la pongo, no, niente. No, allora, volevo chiederle, è una curiosità mia, ma un po' di tutti, qual è per un DJ che lavora in un villaggio l'importanza di fare una differenza fra la musica pop e la musica funk? Nessuna, nessuna, assolutamente nessuna, metti quello che cazzo ti pare e vai, la pista va. Scusi, ma se a me non piace il pop? Te lo fa piacere. E se non mi piace il funk? Fanculo. Ti fanculizzi, ti fanculizzi.